Ciao amici, stiamo a fare la prova del paraelite avvolgente per lo sparte. Ora lo facciamo regolare. Vediamo un po'. Mi dà gli allarmi perché cambiano. Vediamo un po' di sparte numero uno, vediamo bene. Pronto. 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 Non dovuto ringare. Tampiamo e dranno. 2 3 non ci ciò che vuole no ci ciò che vuole a chi vuole ciò che vuole non ciò che vuole a chi vuole Voi! Avete visto? Contro il muro! Voi! Non si studi niente! Batto! Contro! Voi! Batto! Contro il soffitto! Voi! Vede giù un po', vede giù un po', vede giù un po'. Andiamo a battere giù sottito! Voi! Voi quale si accatta! Vedete? Adesso lo possiamo prendere? Sì! Ora prendiamo i ditari! Dobbiamo prendere i ditari! vedete un po' bellissimo questo sistema, questo sistema vi protegge da accidenti, da riurti